80 giovani artisti provenienti dalle regioni della Russia meridionale di Rosso Shekrasnodar si sono esibiti in comune a Piacenza davanti al sindaco Dosi e agli assessori Beltrani e Albasi. Ha preso avvio nei giorni scorsi l'edizione 2013 del Festival Internazionale dei Giovani, l'esperienza ideata e condotta dal maestro di sport Carlo Devoti che vede alternarsi da giugno a settembre nel Piacentino giovani artisti provenienti da tutto il mondo ma in particolare dai paesi dell'est Europa. Ferriere e Bettola sabato sera e ieri hanno salutato i tre gruppi russi venuti dalla città di Rosso Shekrasnodar, luoghi che assistettero ai combattimenti dei soldati italiani, in particolare degli alpini, durante la Seconda Guerra Mondiale. A Rosso Shekrasnodar, 20 anni fa, hanno costruito l'asilo Sorriso perché dalle macerie del conflitto mondiale potesse nascere il simbolo di una nuova volontà di pace. Le prossime esibizioni dei ragazzi di Casa Montagna a Piacenza sono previste il 18 giugno in Piazza Cavalli e ai Giardini Margherita e il 4 luglio in occasione della festività di Sant'Antonino. Grazie.